Nuova tappa della visita pastorale di Monsignor Antonio Napolioni nella Diocesi di Cremona. Nell'ultimo fine settimana di gennaio il Vescovo si è recato nella zona 4 precisamente l'unità pastorale Santa Maria della Pace, formata dalle parrocchie di Cadesoresini, Castelponzone, Cingia de Botti, Motta Baluffi, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo, Monasterolo e Vidiceto, guidate dal parroco Donettore Conti. Diversi gli appuntamenti da venerdì a domenica alternando momenti di confronto, riflessione e preghiera. Monsignor Napolioni ha dialogato con i sacerdoti e i consigli pastorali ma anche con i fedeli e in particolare i giovani negli oratori. Questa mattina la messa nella chiesa parrocchiale di Scandolara Ravara. Queste piccole comunità salveranno il mondo se non si chiuderanno, se non innalzeranno steccati e scaveranno fossati, ma se costruiranno ponti lungo i quali i vostri ragazzi già vi precedono, perché per loro poco importa essere di un paese o dell'altro quando c'è l'amicizia. La visita pastorale ispirata al tema Gesù per le strade proseguirà in diocesi fino a Pasqua. Ogni domenica alle 11 le celebrazioni eucaristiche saranno trasmesse in diretta su Cremona 1.